Il film di cui vorrei parlare stasera è Il diritto di contare. Questo film, uscito recentemente in occasione della donna, racconta la storia di tre matematiche americane di colore che lavorano alla NASA. Queste tre donne sfidano la cultura degli anni 60 con la forza della loro intelligenza e riescono a condizionare, a modificare il contesto grazie alla loro capacità e all'impatto che queste donne credono fermamente nelle loro potenzialità. Il film chiaramente è un film classico con una struttura oligodiana tipica del viaggio dell'eroe dove queste donne devono superare delle prove ma lo fanno con grande limità ed è un bel messaggio quello che ne è trasmesso, un messaggio della forza, delle proprie possibilità e poi è anche molto interessante questo punto centrale della cinematografia degli ultimi giorni che ha messo in scena storie del popolo afroamericano. Quasi a ricordare che dopo l'epopea Obama il mondo del black people ha finalmente conquistato un posto di unità all'interno del mondo cinematografico. Io lo consiglio, anche se la storia, come dicevo, è hollywoodiana, però ha un messaggio molto carino, la scelgiatura è scritta con criterio, i personaggi sono interessanti e discreti, ma molto piacevole. Ve lo consiglio. Ciao!